Veniamo qui a questo momento, ecco, un momento importante in quanto l'arte. Questa presentazione di questo scritto, di quest'opera, l'abbiamo molto fortemente all'interno del rispetto scolastico perché abbiamo inquadrato questo scritto, nel numero della inizia finita marzo dei movimenti e casoria. Se noi stiamo riscordendo la nostra città, i nostri amici, la nostra appartenenza, e anche l'orsobio, ecco, del nostro paese attraverso delle figure importanti oltre che dei movimenti importanti. Attraverso le figure storiche di questa città, e si parla sempre, ecco, questa città che ha avuto una fortuna di avere delle grandi congregazioni religiose, dei grandi personaggi religiosi, ha avuto cardinali, ha avuto sottosegretari di Stato, e li puntiamo per cascina migliore. E quando prima, io penso che, come riscoperto per questa grande figura di Pio XII, di questo grande Papa, che chiede se ne dica, come una persona di persone di capitane, quindi si scorda anche questa grande figura di sottosegretario di Stato, che è stato il campionato maggiorno. Sono un po' partefice, il punto di inserimento, e tutta l'azione dei romani della seconda guerra mondiale. Quindi, un personaggio non in seconda, con in seconda fascia, direi, ma un personaggio importantissimo. Quindi stiamo riscoprendo anche le storie, come dicevo, il capitano del giudice, e quindi le fondatrici delle congregazioni, il nostro grande Papa, il domenico della storia, che, spingiamo quando prima, è moderato, ecco, come, è beato adesso, quindi è moderato, è amato quando prima santo, spingiamo. Così abbiamo, ecco, Maria Cristina Brano, Laperotti, abbiamo Santa Giulia Sartano, quindi figure storiche, questo è interessantissimo che hanno fatto per parlare di nostra, della nostra città. Oltre che, ecco, stiamo riscoprendo all'interno della nostra città, e guardate, questo lo stiamo facendo attraverso, attraverso la scuola, attraverso gli alunni, che si stanno conducendo per mano a conoscere più profondamente l'importanza della nostra città. Quindi questo è un fatto importante, è fatto che è un messaggio culturale che è fatto dal mondo verso, attraverso gli insegnanti, docenti, entusiasti, appassionati, orgogliosi per vedere le proprie amiche. E poi si conduce, probabilmente per il nuovo, si è nato, dove si conduce la propria vita, come si può conoscere questo spaziale, a conoscere il mondo che ci circonda. Quindi è un fatto importante. E dicevo, siamo all'ottore di Dio, noi speriamo, abbiamo lasciato nel senso scolastico questa piccola fiammella accesa, con la speranza che ci sia qualcuno che è più potente economicamente, istituzionalmente nel rispetto della scuola, che possa fare suo questa iniziativa. possa rendere più importante, possa trasformare questa città, possa, ecco, migliorare la qualità di vita di questa città. Noi, lasciateci sperare, lasciateci sperare, che ci siano uomini, orgogliosi, capaci, che possono prendere le vite iniziativa in questa città e farci contenere una vita di uomini, e, dicevo, quest'opera l'abbiamo incastonata tra le figure storiche, e quindi tra le figure che sono distrutte attraverso, ecco, che hanno attraversato, che sono distrutti in questo territorio, ecco, l'abbiamo riscoperto, nel fatto, cinque, sei anni fa, il depumine, è passato da qui, il grande giornalista, dico, il giornalista facile, per l'escusa, dell'absor, giornalista facile, che è un po', ecco, colui il quale che ha scoperto, che ci ha fatto scoprire la facola, degli emigranti pauristi, ecco, Cettacurri è stato l'iniziatore, ed è stato, ecco, un'idea inventato la facola, quindi, aveva la sua amante, la sua donna, che era di tesoria, e quindi passava per tesoria, perché questo pede, la pittista da pede, era anche il maestro di corte, di nato, quindi, era cittaduoli, di noce, quindi, attraverso questa ricerca continua, sul nostro territorio, noi abbiamo, direi che è l'ora di conoscere, l'autore di questa, io chiamo a perla, di ricerca, che vogliamo fare, la vostra senazione, ecco, abbiamo iniziato, con un annuncio, e l'autore di questa perla, che noi lo poniamo questa sera, noi abbiamo iniziato, a mettere, a portare la vostra attenzione, con la sua prima opera, interta, che sta rispondendo, un grandissimo successo, dobbiamo dire, molto bene, e dobbiamo essere orgogliosi, di avere, ecco, persone umili, persone simplici, ricercatori profondi, che hanno, e mi fa parte, ecco, comunque, di questo gruppo di persone, che stanno ricercando, continuamente, per tenere giustizia, questa terra, vedendoci, un po' di musica, che partendo, da questa terra, non lo devo ringraziare, da quel profondo di cuore, annuncio, per questa sua ricerca, noi questa sera, quindi, in personale, tra i grandi personaggi, che siamo, su a te, che appartengono, a queste città, di mezzogli, ecco, vogliamo scoprire, attraverso lui, e attraverso la sua ricerca, una donna, una donna, che è stata una donna, sfezionale, non si sa, appunto, interlocutiva, si si spiega, se effettivamente, è un gran dito lei, ecco, questo, l'altro, è una moda, oppure, ecco, c'è un altro autore, che questo scrive, questa, questa composizione poetica. Allora, io vi invito a presentarvi, ecco, con l'introduzione, perché poi ci saranno, i miei colleghi, che approfondiranno, ognuno per te, e sull'aspetto, non lo vogliamo ancora meglio, ecco, questa ricerca. Io voglio ringraziare, bisogna iniziare il lavoro, ecco, il presidente Francesco Ioro, il presidente del vicepresidente, la professoressa, Natalia Caffi, che è sempre, con il vicepresidente del decreto, con un'utrice, appassionata, un'utrice, ecco, che, e, e, diciamo, non note, ma anche lei, è una ricerca, che non c'è, e quindi, ci proporrà, alcune riflessioni, su questo, e quindi, alcuni apporti condiventi. Poi, abbiamo, il dottor Paolo, che è il direttore globalista, il direttore, eh, del maggiorale, del giornale, di quanti minuti più, ogni settimana, e, e, un punto di riferimento, non sul territorio, e, con un vera, quindi, il lavoro, il lavoro, di questa ordine. Grazie, annuncio, per quest'opera, per quest'opera di cercare. Io voglio, rispondere tutti, brevemente, in quest'opera, voglio fare qualche piccola, attenzione a chi, e, mi ringrazio, per essere, venuti, così numerosi, speriamo, che altri, amici, ci seguireanno. Dicevo, ecco, che, in amici, scritti, ancora, le romantette, in effetti, in effetti, in effetti, in effetti, viaggio, che faremo, questa sera. Dicevo, in amici, stessi, a carattere romantette, l'iniziale, spunto, nasce, dalla fantasia, dello scrittore, che, tra volte, finge, di aver, di aver, un altro, un articolo, un aspetto, abbandonato, di aver, spolperato, e, dopo, un'attenta lettura, di aver, metrato, notizie, interessanti, oppure, da, i neti, di dati, e la donare, utilizzare, per creare, una favola. In questo caso, il manoscrittore, non è, questa notazione, ma è stato offerto, per davvero, al nostro autore, Nuzio, affinché, lo esaminasse, con attenzione, questo scritto. E, in verità, Nuzio, si è appassionato, a questa ricerca, analizzando, esaminando, confrontando, studiando, condivisioni particolari, e, suscitando, ovviamente, anche, il nostro interesse, il lettore. Ne è derivato, uno scritto, che è, sostanzialmente, l'analisi, di un testo poetico, il tono, poi, gambato, schietto, e semplice, e, però, vedo, che c'è una volta, del racconto. C'è una volta, dove, noi, possiamo dire, donna, di toglierla, questa nostra concittadina, nativa di storia, un barbino, un concorriamento, in versi, sulla moda. Ed è questo, il punto, su cui, le caratteristiche, vedremo, questa, su questa notizia. Questo potrebbe, essere l'inizio, di un racconto, di una novella, o la cittura, di un romanzo. Nella sostanza, di questo scritto, che stasera, non ci abbiamo a presentare. E ci domandiamo, è in fine donna Vittorio, oppure no? Ecco il dilemma. Donna Vittorio, è un'invenzione letteraria, una donna, veramente esistita, o uno, se le donne, non in cui si mette, in più celebre, il barone, Michele, sezza, postizia l'articolo, accompagna lo scritto, in tutti i suoi articolarsi. Ma un anno, di lavoro, volgente, non si un, d'autore, aggiunge un'ipotesi all'altra, nella speranza, di individuare, qualche nuovo elemento, che possa, soffragare, le sue supposizioni. Il nostro autore, propende, per la confezza, di Donna Vittorio, per la sua esistenza, nel filmamento, del terapio, anche se come una cometa, si sprende, si sprende, si fa apprezzare, notare, poi, se stanno spingendo. Iniziavano, questo scritto, è la margine, un testo letteral, che ha tutto lì, il tono, è un racconto, in più capitoli, capitoli, brevi, e un invito a lezioni, che si regolano rapidamente, a partire dal ritrovamento, del manoscritto, fino al manoscritto stesso, pur che si è in un passinto capitolo, e ai commetti. Nizio, ci introduce, a questa lettura, tracciando un percorso, lungo il quale, inquadra, storicamente, il parole, perché, di chiuno di lettere, il vernacolo, nello conoscere tutti, e le avvita scritto, si è. Inquadra anche, eh, Vittoria Basoglio, contestualizza anche, il tipo di gesto che analizza. E' un testo, eroico, e a tratti, fungente, sul muovo, in contorno, così che è proposto, e nel bellissimo passo, della borghesia, le abitudini che differenziavano, necessariamente, un cito sociale dall'altro, nuovi di essere, il muovo in fare, che erano di nuovo, nella prima metà, dell'Ottocento. Così facendo, dagli aspetti storici, della sottosuonizzazione, tecnologica, dell'analisi del testo, stiamo conquistati, dall'autocento, che ci produce, nel sociale, nei calotti, sette o forti, e testi, tra le dame, che fanno a gara, per essere, una più legante dell'altra, una più fascinante dell'altra, ed invenendo, capillini, bellezze, prime e fortuni, ma anche tra i vali, che rappresentano, l'ultima unità, e per secolo. E poi, tra gli uomini, su una caccia di prete, tra le due regole, di comportamento, ed uomini, che investono, diversi aspetti, della società, cui si si doveva, conformare, volendo, non è l'entis, per essere, alla moda, come si dice oggi, ci dobbiamo, conformare, per essere, alla moda, per essere, alla moda, della società, borghese, a questo punto di vista, e alla moda, se i versi, appartengono, a donna, Vittoria, abbiamo sicuramente, ci domandiamo noi, abbiamo sicuramente, a che fare, con una donna, adulta, dotata, in fine spirito, fisico, una scrittrice, per gente, che frequenta, sicuramente, i salotti del tempo, o forse, era ella, stessa, animatrice, del suo salotto. e osservava, dal suo osservatorio, con attenzione, con aguto spirito, di osservazione, quando le accadeva intorno, in quel, in quel, in quel, in quel, che raffinuva, nei suoi versi, nelle sue descrizioni, in daci, cristallizzando, e fissando, sulla carta, emozioni e gusti, in quello, scurso di secolo. questa donna, come città, della prima, metà del progetto, ricorda tutta la sua vocazione artistica, in segno di poter contare su di sé, di avere una sensibilità, pure del comune. la scrittura, è per lei, come per tante donne, puoi avere, capacità di osservazione, ed analisi. di solito, però, estremamente, legata al privato, e alla sfera domestica, perché le donne, sono legate, sono legate, alle emozioni personali, alla propria vita, e alla rappresentazione, del prodiglio. In questo caso, invece, notiamo che la donna, dice, da anche il suo, al suo carattere erotico. La scrittura è, quindi, espressione spontanea, immediata, come se la vittima, seguisse un desiderio, incontrollabile, di parlare, denunciare, esprimersi, un desiderio irreparabile, che tra linee e versi assorti, va oltre la volontà, ed è, ed è in proposito, di poi che la scrittura, comprendo oggi, calore e colora l'argomento, oltre a vivacità, e il ritmo, più rosa la natazione. E nel mio, a te, mi sembra, e per dedicare, quanto è davvero, ambile, donna Vittoria Valtoria, nel rendere concreto, e evidente, eterno patrimonio di tutti, ciò che vede, e ciò che accade, divertendosi, e facciendosi, e facendoci ancora, oggi señoriterre. Vi volevamo, a tutto, a tutti i bambi, buona ricerca. Grazie.